Ciao, tu sia sia la pizza che vuoi! Torna anche per il 2021 la nuova edizione di Memorabilia, la rassegna di incontri letterari promossa dall'Associazione Rapsodia insieme al Comune di Fano, assessorato le biblioteche, quattro appuntamenti serali nei giardini della Mediateca Montanari, 8, 15, 22 e 27 di luglio, con grandi nomi della letteratura contemporanea italiana, incontri che ci permetteranno in qualche modo di ripensare anche quest'ultimo anno così complesso e difficile e di farlo però in un contesto finalmente sereno e soprattutto ricco di suggestioni e di stimoli che ci provengono appunto da alcuni dei nomi più importanti attualmente della letteratura italiana.